Siamo nella sede della Will Tux, siamo con il segretario generale Rino Strazzullo, ex calciatore, opinionista in diverse trasmissioni sportive. Allora, è arrivato Rafa Benitez, è l'uomo giusto per il Napoli? Credo che sia l'uomo giusto, abbiamo bisogno di fare il salto di qualità, con Mazzari abbiamo avuto delle bellissime esperienze. Mancava all'appello una vittoria importante come quella dello Scudetto, speriamo che con Benitez possiamo cogliere questo risultato. È l'uomo giusto, bisogna creare le condizioni giuste affinché i calciatori importanti per raggiungere questo obiettivo arrivino a Napoli. Quindi anche De Laurentiis ha trovato un grande allenatore e bisogna creare una grande squadra. Sulla questione Cavani, come la pensa il nostro azzurro? Cavani ha dimostrato nei fatti di essere un grande calciatore, c'è un modulo di gioco diverso. Intanto questo periodo vado, via, resto, sta creando forti tensioni nel club, tra i tifosi, in città. Lui stesso sta andando in crisi, deve essere chiaro se vuole rimanere o fare una scelta di andare via. Credo che non vedremo lo stesso Cavani con Benitez, i moduli di gioco sono diversi, eravamo abituati a dei contropiedi fulminanti da parte del matadoro che arrivava in porta, probabilmente il matadoro dovrà riadeguarsi a un modulo di gioco che è diverso e quindi non sono sicuro se avremo lo stesso Cavani dei tempi di Mazzarri. Se va via, 63 milioni di euro sono tanti per comprare dei valori di giocatori per un modulo che sicuramente è diverso rispetto a quello precedente. Dove proprio agire per quanto riguarda gli acquisti, difesa, centrocampo, cosa piacerebbe a dimostrarci? Intanto la difesa. Io sono sempre convinto che con le difese si vincono i campionati. Quest'anno la difesa ha avuto ancora delle sofferenze. Se immaginiamo alcune partite chiave, mi riferisco anche alla partita importantissima che il Napoli ha affrontato a San Paolo con la Juve, lì si è visto qualche deficienza in difesa. Dovremmo agire molto sulla difesa, soprattutto sulla parte centrale della difesa. Sul centrocampo è chiaro che ci sono uomini che con il metodo di gioco di Benitez non sono più ai rendimenti di Mazzarri. Fatto salvo Amsic, probabilmente anche lo stesso Hiller ha delle difficoltà, quindi io credo che subito dopo la difesa dovremmo iniziare a parlare anche di linea mediana. Sull'attacco spero in un grande insigne quest'anno, se il Matador verrà riconfermato e resta a Napoli sappiamo già chi è, anche l'ultimo acquisto non è male. Esatto. Un centravante di spessore ce l'abbiamo, però è chiaro che se vogliamo cogliere l'obiettivo del primo posto, immaginiamo pure che quest'anno avremo delle squadre ancora più attrezzate, vedi la Juve con l'ultimo acquisto, non dobbiamo dimenticare che siamo impegnati anche in Champions, quindi avere una squadra con tanti giocatori a livello, all'altezza, non è male. Quindi anche doppioni, se vogliamo effettivamente avere un ottimo risultato in Champions e magari raggiungere l'obiettivo del primo posto che manca da anni in questa città e che questa città merita.